Che poi è interessante notare come nell'antica Grecia Platone faccia parlare Socrate in quel modo lì, cioè prima di Platone non c'è stato nessuno che ha tentato un vero e proprio atteggiamento di stampo razionale al senso anche della trascendenza. Infatti il fatto che Platone sviluppi il mondo delle idee e il mondo sensibile non deve far credere che in realtà Platone da questo punto di vista dica no il mondo è brutto, in realtà siamo tutti cattivi eccetera, in realtà dovrebbe fare tendere all'idea specificatamente che esiste un certo tipo di teologia razionale. Tale per cui Socrate col suo so di non sapere, che in realtà concerne anche quella teoria della conoscenza tale per cui io non so nel senso che devo andare avanti a ricercare se voglio capire che in fin dei conti la ricerca per essere degna di essere vissuta concerne probabilmente il fatto che devo sapere di non sapere. In realtà lo stesso Platone a un certo punto sviluppa probabilmente quel senso del divino tale per cui perché l'oracolo dice che Socrate è il più saggio di tutti, tra tutti i greci, seguendo appunto le parole di Platone. Ma per il semplice motivo che Socrate sa appunto di non sapere, ma questo atteggiamento, cioè il sapere di non sapere, concerne in fin dei conti il daimon interiore, cioè la divinità. E questo è molto interessante perché il senso del daimon, il senso della divinità, il senso della ricerca, concerne in fin dei conti un motivo, se vogliamo anche teleologico, cioè di movimento verso un fine, che però in fin dei conti è finito perché c'è qualcosa di superiore. In questo senso non è un caso che si può collegare benissimo il senso del timeo, cioè il tema del demiurgo, come architetto, creatore, ma colui che è propriamente morale, cioè non può essere generato e generatore, con poi il senso di una morale socratica che concerne la teoria della conoscenza. Cioè da un lato c'è una teoria della conoscenza tale per cui so di non sapere e quindi, in quanto so di non sapere tutto, devo proseguire con la ricerca perché non posso elevarmi tanto al demiurgo, però al contempo, attenzione, il demiurgo mi dà tracce, cioè c'è una teologia razionale tale per cui io posso seguire queste tracce, posso cercare di barcamenarmi nel reale e ho una responsabilità personale. Nel senso io sono responsabile delle mie azioni, ma sono anche responsabile della mia conoscenza, tale per cui devo capire ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è valido, ciò che è invalido. Non è un caso che Pratone in certo qual modo anticipi la logica aristotelica sul vero e falso. Ma poi c'è probabilmente, scusate, sul valido e invalido, cioè sull'argomentazione logica, cioè che è supportata da premesse vere e una conclusione vera, però in fin dei conti poi queste premesse sono valide, cioè specificatamente si sostengono, non c'è fallaccia logica, poi in realtà poi il tema delle premesse eccetera, bisogna vedere se l'enunciato corrisponde a verità oppure no, cioè corrisponde al fenomeno che sta accadendo. Però al di là di questo, è interessante poi notare anche l'approccio morale, cioè il secondo punto, il punto del demiurgo, cioè vicino all'alteriore della conoscenza c'è l'approccio di stampo morale. Se nell'antica Grecia c'è un diritto di stampo più forte, cioè il diritto del più forte, tale per cui non c'è un vero diritto, c'è il senso pericleo di base, il senso antico greco di base, questo valeva per Atene, valeva per Sparta, valeva per tutti. Tale per cui io impongo su di te il mio dominio, io vinco, sono più forte di te, punto. Tu non hai più diritto, tu sei il mio schiavo. Questo varrà in realtà anche nel periodo di Alessandro Magno, pensiamo a tutte le ricazze che ha sviluppato sulla base del fatto che vendeva poi coloro che conquistava spesso come schiavi. Questo poi accadeva spesso anche durante le guerre, cosa che accadeva? C'era la guerra, i greci si spostavano, ovviamente non distruggevano i santuari vicini alle polis, perché appunto condividevano questa divinità, questo interessante, cioè il tema del diritto, si rifaceva poi al tema della religione, cioè io sono contro di te, però il tuo santuario in certo qual modo appartiene anche a me, nel senso è proprio del panteo nelle divinità in cui crediamo. Poi quando andiamo in guerra magari c'è un collegamento magari maggiore con Ares e Dio della guerra, ma tant'è che da questo punto di vista il santuario si è in certo qual modo collegato a tutti, quindi il santuario tuo diventa mio, nel senso io prendo le sue ricchezze quando ti ho conquistato e poi le vendo per magari assoldare mercenari o assoldare altri uomini che mi servono o per le ricchezze della mia città. Ma il punto poi fondamentalmente interessante è che al di là di questo diritto non c'è diritto, ma c'è in fin dei conti un senso del più forte, tale per cui questo tipo di esigenza di imporsi sul prossimo è chiara e chiarificata nell'antica Grecia. Il senso invece morale di Platone, cioè il senso del demiurgo, spinge a dire attenzione, cioè la teologia razionale, o meglio, un senso razionale teologico che parte dal demiurgo non solo concerne una teoria della conoscenza tale per cui devo cercare di capire cosa è vero, cosa è falso, cosa è giusto, cosa è ingiusto, cosa è valido, cosa è invalido. Cioè non solo devo capire se la mia affermazione coincide con la realtà, sta piovendo, non sta piovendo, se dico che piove ma non sta piovendo, in realtà sto sbagliando, il mio enunciato è falso, non solo concerne la morale, è giusto o sbagliato, cioè è giusto uccidere, è ingiusto uccidere, cosa devo fare con le mie azioni, cosa accadrà di me nel momento in cui morirò sulla base delle mie azioni, cosa è valido e cosa è invalido. L'argomentazione si sostiene da un punto di vista fondamentalmente argomentativo, esiste questa connessione tra premessa e conclusione, ma in fin dei conti poi c'è il tema probabilmente anche teologico, perché non posso spingermi oltre un certo punto. Ma questo spingersi concerne poi l'anima che nel momento in cui morirò tornerà nel mondo iperuraneo, perché nel mondo sensibile io non posso sapere abbastanza, però quell'anima lì si era bagnata nel fiume Amelete e quindi si era dimenticata della vita precedente. Vedete come c'è la connessione con la morale? Una morale che per quanto stia anche nel mondo iperuraneo in realtà parte o è presente soprattutto nel mondo sensibile, cioè concerne la vita etica, la vita etica successiva sulla base della vita etica precedente. Quanto noi influenziamo l'anima con le nostre azioni nella vita mortale? Quanto noi influenziamo l'anima con i nostri atteggiamenti, con le nostre scelte? Perché l'uomo può scegliere ed è responsabile. Mito di era. L'anima sceglie sulla base della vita precedente, sulla base del ricordo, sulla base delle scelte individuali di ognuno. Ulisse, dopo tutto il suo tragitto, dopo tutte le sue avventure, sceglierà infine di non reincarnarsi più in un re, di non reincarnarsi più in un uomo con grande senso, o meglio non grande senso, grande responsabilità su di sé da un punto di vista politico. Perché? Perché aveva fatto quello che aveva fatto. Cioè era stato re di Itaca. Il punto quindi interessante, il tema morale a un certo punto viene fuori e da qui, dal tema di Ulisse, dal tema anche del mito di Er, dal tema della rincarnazione, si può poi sviluppare il tema, probabilmente quello del Gorgia, cioè sul tema del diritto del più forte. Capite com'è? C'è questa connessione, tale per cui a un certo punto c'è Callicre che esemplifica questo fantomatico diritto come se il diritto soltanto, quello classico dell'antica Grecia, sia quello, cioè dell'imposizione, della destrutturazione sulla base anche interna, cioè del politico che dice agli altri cosa debbono fare, cosa devono fare. A un certo punto arriva Socrate che esemplifica tuttavia l'atteggiamento morale. Un Socrate, che è poi il Socrate di Platone da questo punto di vista, che esemplifica un atteggiamento morale molto chiaro. Perché la conoscenza non è compiuta in noi stessi, tale per cui noi dobbiamo andare avanti a ricercare, ma nemmeno una morale. Pertanto la morale va anche dibattuta, va compresa. E noi non siamo un monopolio della morale. Perché la morale è in certo qual modo anche concepita da quel demiurgo che sta come increato, cioè come colui che genera, e come essere, scusate sto dicendo come uomo, l'uomo è finito, come essere, immortale, eterno, ma che è morale. Questo è interessante perché poi ci si collega probabilmente anche al tema della morale. Cioè se esiste qualcosa di morale, se esiste un architetto, allora, in fin dei conti, non ha torto l'oracolo di Delphi quando dice che Socrate è il più saggio perché sa di non sapere. Probabilmente perché l'uomo che è finito non può che appunto tendere a cercare di capire ciò che quell'architetto in certo qual modo ha costruito. Pertanto ecco una nuova teoria della conoscenza, un avvicinamento, che è anche un avvicinamento di stampo morale, ma anche da un punto di vista teoretico, cercare di capire ciò che è stato costruito, per avvicinarsi a questo senso, una sorta di rapporto con il Dio, che in fin dei conti si discorsa tantissimo dall'atteggiamento classico dell'antica Grecia tale per cui gli dei facevano paura, bisognava starci lontani ed anzi non si poteva comprendere in certo qual modo la scienza perché la scienza era incomprensibile per l'uomo e soprattutto nel momento in cui si tentava di prendere la scienza come Prometeo, gli dei si arrabbiavano e ti punivano, Prometeo che tentò di rubare il fuoco degli dei, in certo qual ce la fece, poi in realtà fu punito da Zeus nel momento in cui Zeus si vendicò, lo attaccò in cima a una montagna e un'aquila ogni giorno gli andava a mangiare il fegato che poi gli ricresceva. Questo per dire cosa? Che da questo punto di vista in Platone sembra ci sia probabilmente un rapporto tra prospettiva legalista e prospettiva giusta naturalista. Io credo che in tal senso il senso socratico, cioè la storia di Socrate, almeno sulla base delle fonti non dirette che abbiamo, ma le fonti dei dialoghi socratici che non sono solo di Platone ma anche di Senofonte, Eschini, di Svetto eccetera, noi dobbiamo cercare di riflettere Platone in questo senso, cioè a un certo punto Platone forse tese a sviluppare storicamente la figura di Socrate attraverso quel processo che Atene gli fece, tale per cui Atene lo condannò a morte e la maggioranza è decisi in un certo modo per poi fare tutto il suo discorso sul tema della morale, cioè a un certo punto Platone mise il rapporto, il senso della maggioranza anche dal punto di vista della teoria della conoscenza, è vero ciò che la maggioranza dice, è valido ciò che la maggioranza dice, con poi il senso morale, cioè a un certo punto chiedersi, ma quindi qual è la filosofia che voglio sviluppare sulla base della morte di Socrate? Ecco perché anche dal senso del presupposto, cioè della scelta socratica, di decidere di non seguire il consiglio di Critone, di fuggire per non venire meno al senso, in fin dei conti, della democrazia atenese, potrebbe anche rileggersi in questo senso da una prospettiva di stampo morale come individuo che sceglie, cioè ovviamente c'è naturalmente l'idea che è portata da alcuni nel senso legalistico, tale per cui bisogna seguire la legge, però Platone stesso nelle leggi sviluppa un senso normativo ma come norma che è spontanea in certo qual modo. Ora, forse anche per criticare la democrazia atenese che condannò a morte Socrate per, in quel senso, il senso della degenerazione politica, non dimentichiamoci che storicamente vediamo che Platone vede una democrazia che passa a un'oligarchia, il governo dei trenta, che peraltro è un governo di stampo filo spartano, cappeggiato peraltro dal suo parente Crizia, e poi il ristabilirsi della democrazia. Si potrebbe dire che quella oligarchia era in certo senso una tirannia, e tuttavia Platone conosceva queste persone e conosceva anche Socrate. Il problema poi, di fondo, che è poi un problema storico, è da un lato c'è il senso filosofico di base da cui Platone poi sviluppa la sua filosofia, anche il senso del rapporto morale, legalismo, eccetera. Perché va bene che Socrate ha scelto di stare in rapporto alle leggi, però Platone in certo qual modo sviluppa una filosofia di stampo giusta e naturalista, cioè nel senso c'è un dio, c'è la morale, c'è qualcosa da contraddire nel momento in cui mi tiri fuori quel diritto del più forte, che poi è il classico diritto dell'antica grecia. Cioè non c'è neanche diritto internazionale nell'antica grecia, se non per la religione che appunto non è vero diritto in questo senso. Nel senso i greci sì, avevano questa religione, il pantheon delle divinità, che peraltro Platone è anche critica, sviluppando appunto una divinità diversa per la teoria della conoscenza. Al dimiurgo gli serve per la teoria della conoscenza. Non gli vanno bene le divinità olimpiche, prima di tutto perché nascono in un dato momento, non sono eterne, sono immortali, e poi in realtà specificatamente perché hanno un monopolio di base della verità. Ma questa verità è monopolizzata in parti diverse, non c'è una vera teoria della conoscenza in questo modo. E poi in fin dei conti c'è probabilmente il tema di cercare di capire la scelta dell'uomo in quanto responsabilità, che pure è rilevante e qui concerne quindi il senso della storia di Socrate, che noi comunque non sappiamo col senso poi platonico che coltivò sulla base appunto di ciò che vide da parte della democrazia. Durante la guerra del Peloponneso precedentemente e poi attraverso tutte queste concause che porteranno la democrazia tenita a decidere per condannare a morte Socrate. In ogni caso la maggioranza appunto deciderà appunto di condannare a morte Socrate. Ciao!